Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione collegata all'attività 2022 dell'Autorità per la partecipazione della Regione Toscana con l'astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto Toscana Domani. Gli impegni contenuti nella risoluzione includono quello di proseguire nel percorso già avviato di revisione della legge regionale per garantire coerenza con i percorsi partecipativi e l'attivazione di forme di rilancio e implementazione della partecipazione. Nel corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'Autorità per la partecipazione di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320 mila euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'Autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione rispetto alla quale è in discussione una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che presto approderà nell'Aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte una riflessione sull'Istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra regione che non potendo vantare grandi risorse umane hanno necessità di una maggior specializzazione del personale presente e per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza nella quale oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'Istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e dall'altra parte di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. Io credo che la legge sulla partecipazione abbia nella nostra regione prodotto ottimi risultati nel corso degli anni. Certamente si tratta di risultati perfettibili rispetto ai quali l'auspicio è senza dubbio quello di un maggior incremento di opportunità per i nostri territori perché i percorsi partecipativi sono occasioni di coinvolgimento della popolazione nelle scelte strategiche per i cittadini. Per questo motivo se alcuni progetti non sono stati finanziati nel 2022 l'obiettivo è che nel 2023 possa vedere non soltanto un numero crescente di richieste ma anche una maggior soddisfazione nei confronti di tutto il territorio. Quindi a fronte di un impiego già particolare e già buono dell'Istituto della partecipazione chiaramente l'opportunità di arrivare a sviluppare maggiormente questi percorsi deve esserci anche perché l'autorità per la partecipazione eroga risorse importanti nei nostri territori e lo fa comportando costi veramente minimi. La Lega vota contro semplicemente perché siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati. Sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, di 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico perché esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione. In Toscana abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo, purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, Prato e Massa Carrara. Quindi al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere, questi strumenti della partecipazione. Perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici come quello francese, perché avevano un scopo nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Prima di far partire un'opera pubblica, ad esempio, sarebbe necessario che si conoscessero i pro e i contro. Io nell'arco della mia attività consigliare sono sempre più convinto che la partecipazione possa essere importante, naturalmente bene regolamentata, ma che vada assolutamente nel senso di una partecipazione reale. E anche qui devo dire che l'autorità per la partecipazione non ci dice quanti cittadini, quanti associazioni, partecipano a questi processi partecipativi. Cerchiamo di non avere un approccio meramente formale, ma un approccio sostanziale. La partecipazione può essere importante, quella politica dal basso deve tornare e i cittadini devono essere coinvolti. Ovviamente i percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana. Da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine. La partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare processi decisionali. È fondamentale la dimensione dell'ascolto. Abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali o anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale. Quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni. Quindi noi stiamo su questo contesto, però ci portiamo i nostri rilevi critici per cercare di migliorarne il quadro. Ne stiamo discutendo con la maggioranza. La partecipazione è uno strumento che la regione toscana ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla, ma la verità è che bisogna capire quante volte la regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità, oppure se viene implementata nel modo più corretto e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state la darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono, perché se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora la partecipazione per certi versi se ne può fare a meno, perché non è questa la partecipazione che cerchiamo. E invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti, soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum di Empoli che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti. Diciamo che premetto di essere in generale a favore della partecipazione inteso però come strumento efficace ed effettivo di coinvolgimento di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà per come è stata posta la questione oggi rischia di essere una mera dichiarazione di intenti perché se noi pensiamo alle tante sfide penso alle infrastrutture mi viene in mente l'aeroporto mi viene in mente la partita su rifiuti in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca tra l'altro non attivata neppure a livello regionale anche laddove penso alla questione aeroportuale si sarebbe potuta attivare quindi la sfida è si crede davvero nella partecipazione allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano diciamo il futuro della Toscana e quindi è un reale coinvolgimento dei territori questo perché non significa strizzare l'occhio a comitati oppure come dire fare la solita politica del tipo allora sì lo volete far qui noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica questo non è lo spirito anzi se la partecipazione fosse stata in qualche modo anche accompagnata ad una consapevolezza ad una spiegazione molto spesso sui territori forse avremmo anche evitato dei contenziosi anche perché molto spesso appunto si generano dal malcato confronto quindi o ci si investe sul serio oppure siamo di fronte all'ennesima dichiarazione di intenti il consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2023 dell'agenzia regionale toscana per l'impiego la proposta di deliberazione ha ricevuto 19 voti favorevoli provenienti da partito democratico e Italia Viva mentre sono stati espressi 7 voti contrari dal Lega Fratelli d'Italia e dal gruppo misto Toscana Domani il bilancio si chiude in pareggio con un valore della produzione pari a 84 milioni 201 mila euro che rappresenta un aumento del 19% rispetto all'anno precedente i costi della produzione ammontano a 82 milioni 81 mila euro registrando un aumento di circa il 20% evidenzia innanzitutto che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio abbiamo segnalato la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo che la regione toscana sta facendo e arti in particolare in questi primi mesi inizia una fase nuova una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali con le associazioni di categoria con le associazioni sindacali è un momento quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare sulle esigenze di ciascun territorio che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori ma anche delle imprese artigiane e imprenditoriali l'idea è quella della prossimità e quindi quello di essere collegati davvero ai territori aprire uno sportello vuol dire avere persone che prendono in cura e che si fanno carico anche delle esigenze di chi va a fare i colloqui ma soprattutto che parlano anche con le imprese affinché capendo bene quelle che sono le esigenze rispetto a Prato è diversa da Livorno rispetto a Grosseto rispetto a Massa e quindi cambiano anche le necessità e le richieste delle persone oltre che delle imprese quindi avere un ufficio vuol dire avere quel servizio di necessità di prossimità scusate di necessità che è vicino e che riesce a farti avere le politiche più mirate possibili L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavori stagionali devono fare si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono da un certo punto di vista le esigenze maggiori è quello di colmare il mismatch cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ancora su questo si fatica perché il problema è strutturale non attribuibile ad arti se si pensa che in altri stati come l'Olanda la Germania si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta e in questo la regione a parte mettere a disposizione del personale altro non fa perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese cercare di rifare più formazione formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze e la regione toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose voto positivo voto positivo da parte di Italia Viva un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale la ricerca dell'occupazione della prima occupazione il ricollocamento delle persone il tentativo di ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona trova la parte nostra massimo sostegno è la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti che sono delle politiche di carattere regionale che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale sicuramente il arti è oggi un'agenzia regionale chiave se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano della nazionale di ripresa e resilienza naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo soprattutto che è legato all'aumento del personale si parla in Toscana di circa 1058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023 ora noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in arti perché poi questo diventa il paradosso e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte di trovare un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero ecco tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse a partire dalla formazione e dalle politiche attive e soprattutto diciamo oggi anche alla luce della riforma sacrosanta del dedo di cittadinanza si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile del quale poco si accenna molto generica anche la parte sui programmi vengono rifinanziati alcuni programmi ad esempio che riguardano laboratori che sono stati colpiti da crisi aziendali però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e ripeto anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio dal 30 luglio al 6 agosto nel comune senese di Chiusi arriva la ventunesima edizione del Festival Orizzonti un evento straordinario dedicato all'arte e allo spettacolo in tutte le sue forme il Festival Orizzonti edizione metamorfosi come viene intitolata quest'anno promette di invadere ogni angolo della cittadina con una festa imperdibile che celebra la trasformazione artistica il Festival Orizzonti è una vetrina eccezionale per il teatro la danza la musica le visite guidate gli incontri letterari e i laboratori artistici che coinvolgono sia gli artisti di fama internazionale che i talenti emergenti sì un pezzo di una storia importante il Festival Orizzonti una fondazione che sento nel mio cuore perché fondamentalmente ho avuto la fortuna da sindaco di far partire il progetto della fondazione che era un'idea un'intuizione straordinaria quella di coniugare le iniziative pubbliche con le iniziative private mettere insieme la cultura l'arte al centro delle iniziative non soltanto estive di una città quella di Chiusi che ovviamente fa della storia un proprio elemento di forza della propria cultura della propria tradizione e questo torna con tutta la sua forza nelle settimane estive ed è un momento importante di crescita per la città per le produzioni di carattere artistico per la storia ma anche per l'attrattività turistica che un festival di un'importanza del genere produce non soltanto per la città ma per tutto il territorio questo è il motivo per il quale il Consiglio regionale della Toscana ha voluto ospitare in questa conferenza stampa e promuovere con la propria forza e i propri mezzi una valenza di carattere regionale e non soltanto locale di un festival che a questo punto ritorna e che promuoverà non soltanto la città ma tutta la Toscana il festival è strutturato su 30 eventi in 8 giorni quindi diciamo sono molti eventi che durante la giornata si va su 3 eventi al giorno tra mostre danza e prosa e anche una riapertura al teatro della danza contemporanea che è mancato nelle precedenti edizioni e per quanto riguarda il tema scelto per questo festival è metamorfosi perché mi piaceva indagare questo tema della mutazione della trasformazione dell'essere umano del cambiamento quindi tutti gli spettacoli inseriti e anche tutte le altre attività collaterali del festival hanno come tema portante questo della metamorfosi è un festival che rinasce dopo gli anni passati del covid che ritorna a essere in più posti della città di Chiusi quindi andiamo anche al lago che è una zona molto bella e molto identitaria per i cittadini chiusi è un festival che si affaccia alle nuove generazioni con anche appunto il teatro danza con balletto civile con la rete di teatro e critica che sono degli operatori dei critici di teatro che sono invitati e faranno dei laboratori per gli spettatori diciamo consapevoli del futuro quindi ci sono i punti per creare un festival che guardi al futuro e alle nuove generazioni c'è anche il tema dell'ecologia ad esempio la metamorfosi del pianeta nel senso che ci saranno due spettacoli che parleranno di questo tema per noi sarà importante come fondazione incontrare il pubblico del futuro questo è l'obiettivo come direttore artistico del festival questa manifestazione per noi è un consolidamento sostanzialmente perché siamo arrivati alla ventunesima edizione quindi c'è una storia che viene rappresentata ogni volta ed è fondamentale proprio come appuntamento della nostra stagione stagione estiva e trova il suo culmine proprio tutto il lavoro annuale che viene svolto all'interno del nostro teatro con i corsi con i ragazzi e quindi ecco è proprio l'evento più atteso della stagione estiva ed è un onore per noi anche quest'anno essere qui in consiglio regionale a raccontare questa bellissima esperienza devo dire che il mio consiglio e i miei colleghi abbiamo lavorato molto bene perché questa amministrazione comunque continua a trovare soldi e risorse e anche aiuti per quando si fanno queste cose questo credo che non sia di poco conto e quindi niente ci siamo riavventurati a ventunesima edizione è sempre una fatica ovviamente perché ogni anno c'è novità costi maggiori però la proposta di quest'anno siamo molto contenti perché torniamo a una proposta culturale nuova innovativa c'è uno sforzo a guardare i giovani perché si fa presto sempre a dire avvicinare poi bisogna avere il coraggio di farlo e noi lo faremo proveremo a dare una risposta qualche un po' di giorni fa Cordelli ha fatto una provocazione sul mondo del teatro sul mondo del teatro italiano parlando di decadenza noi proveremo con le nostre forze a dare una risposta in senso positivo alla cultura e all'attività saranno otto giorni importanti e noi stiamo molto attenti sulla formazione la formazione per noi è importante creare i cittadini consapevoli e cittadini e spettatori di domani e spero anche qualcuno che si butta nel mondo dell'arte credo che sia anche questo un grande sforzo che cerchiamo di fare beh certo un evento importante non solo per Chiusi ma per l'intera Valdichiana un evento dove si porta avanti il concetto di cultura una cultura di alta qualità una cultura dove porta dietro un lavoro di associazioni e di tanti professionisti che danno il valore a quello che la cultura vuole rappresentare alla fine il bene comune che può essere usufruito da tutti a tutti i livelli e a tutte le età c'è formazione c'è distribuzione culturale e per la città di Chiusi insomma con tanti eventi distribuiti in location particolari nel paese credo che sia un valore aggiunto anche per l'intero territorio oltretutto insomma in vista anche della candidatura della Valdichiana a Capitale della Cultura per il 2026 però devo dire che su 21 edizioni diciamo il livello culturale espresso dalla Fondazione Orizzonti dal Festival Orizzonti dalla Città di Chiusi è sempre stato molto alto per cui insomma si porta avanti un concetto di qualità e di fruibilità per tutti Grazie 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 Grazie